Sono Cleo Toms, ho 23 anni e da poco mi sono trasferita a Milano. Per me tutto è cominciato su YouTube e da lì ho trasformato la mia passione nel mio lavoro. Parlare di beauty sui social mi ha dato la possibilità di confrontarmi con altre realtà e punti di vista. E così ho scoperto che non esiste una sola versione di me stessa, ma che posso essere chi voglio. Un giorno mi vedi acqua e sapone e il giorno dopo rossetto scuro e ciglia finte. Il mio beauty power è la libertà. Non mi pongo limiti e non mi do etichette. Il messaggio che voglio trasmettere è... Puoi farlo anche tu.